no cioè io inizierei la live così cioè il mio pigiama è super sexy ragazzi ma che volete di più una donna con la pantera rosa ciao ciao amici allora sono struccata sappiatelo cioè orribile ciao ciao me l'avete richiesto voi non so chi mi ha mandato un tweet prima ah li fai una live e allora facciamola live yeee ciao madonna ma non si vede di nuovo ragazzi ma non funziona periscope lo sapete è incredibile e comunque per chi mi vede perché non tutti mi vedono per chi mi vede ciao a tutti di nuovo e come va? cosa fate di bello? me l'hai chiesto su twitter allora grazie a te ciao tesoro me l'hai chiesto allora lo faccio sì sono ancora qua però sto organizzandomi perché verrò a Milano quindi insomma ciao 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 Silvia ciao a tutti cosa fate di bello stasera? cosa fate? mangiate sul divano ti segue Michele no ragazzi top of the top proprio hai comprato la melanzana ma ragazzi ma veramente ma quindi veramente sabato mi portate le melanzane aiuto ciao Alice studio storia dell'arte a me mi stava sulle palle da morizzo era dell'arte pensate e ho fatto il liceo artistico grande genio ciao a tutti ciao certo che mi ricordo Maddi di te ovviamente Maddi Neve invece era Maddi Nave va bene ok ciao Valeria e Daniele ciao oddio il cognome non riuscirò mai ecco ho fatto una volta a leggerlo le melanzane top alla grande no dai hai litigato con tuo papà capita capita di litigare con i suoi con i genitori ci sta farete pace prestissimo non ti starà a preoccupare davvero vai tranquilla non ti starà a angosciare troppo capita assolutamente oh ti stai struccando brava bravissima ah lì mi hai detto di mandare un messaggio privato per non ho letto cacchio ci vediamo il 3 sì vediamoci il 3 allora io intanto mi sdraio un attimo sì ci vediamo assolutamente il 3 non vedo l'ora veramente ciao Teresa ti sei fidanzata grande top bellissima qualcosa ciao Chiara ciao a tutti dai dai convincili a farti venire a farti portare a Milano ciao ragazzi oddio non riesco a vedere tutti quelle persone che vogliono essere salutate però è come se vi salutassi tutti ciao Noemi ciao a tutti sì mi ricordo che sei quella di Siracusa ma io non ci posso fare niente non sono nell'organizzazione di Michele ho usato a scuola la cosa delle melanzane fa troppe figuracce e beh lo so bene cosa si prova guarda assolutamente a Bari ci vieni allora a Bari ci sono venuta 4-5 mesi fa ho fatto l'incontro a Bari ciao Trento vieni da Reggio Emilia top top bravissima uè melanzane a go go ragazzi c'ho anche le c'ho anche le lenzuola vedete viola è destino è destino io e le melanzane moriremo assieme tipo allora se è il contrario ah scusami allora forse lo tenevo troppo scusami perdonatemi mi alzo anzi facciamo una cosa meglio io sono attaccata al wifi perché funzioni anch'io ragazzi cioè non mi funziona periscope non so come mai quindi vabbè hai grande hai detto come si fa a far passare il singhiozzo bravissima alla grande funzionerà salveremo il mondo ragazzi cosa c'entrano le melanzane non la sai la storia delle melanzane preservativi vedi vedi tutti che mi mentano melanzane everywhere perché loro lo sanno lo sanno e mi credono e lo stesso Michele e la stessa potta che mi prendevano in giro nella live se voi avete visto la live su periscope di Michele lo saprete questa cosa vi assicuro vi assicuro adesso ci credono anche loro assolutamente dai controlla la pizza vuoi vedere il pigiama? certo l'ho fatto vedere prima guarda super sexy della pantera rosa non vedrete niente perché ci sono tutti i messaggi eh quanto sono sexy vedete ma le donne le donne sexy veramente in più c'ho anche i pantaloni con le ghiande ragazzi quando una persona è sexy dentro ma cioè ma che gli fate ma cosa gli fate fico vero è bellissimo è simpaticissimo fa freddissimo quasi poi fa parecchio freddo sì un pigiama con le melanzane vai no ragazzi io sono troppo curiosa di vedere cosa mi portate sabato allora alcuni di voi mi hanno detto alcuni vabbè mi portano le melanzane proprio ok altri vi portano tipo la maglietta con disegnato sopra hashtag alice le melanzane o le magliette le magliette con tutte le melanzane sopra viene in Umbria non lo so per adesso non ce n'ho di date però appena so qualcosa ve lo dico assolutamente seguitemi sui vari social perché vi dico tutto quanto io faccio il disegno delle melanzane no ragazzi veramente morirò da ridere sappiate cioè io poi io allora sappiate questo io sono dalla lacrima facile sono dalla lacrima molto facile con le persone che mi seguono con i film non tanto ma e i cartoni ma con le persone sì quindi non fate cose troppo commoventi come si dice perché se no io mi metto a piangere tipo e quindi è bruttissimo e poi Michele mi prenderà in giro per tutta la vita ok grazie salvatemi vi prego oh mi aspiti a casa e ti preparo le melanzane vai alla grande viene a Roma si organizzerò prestissimo per venire a Roma davvero oh Alice un'altra Alice ciao tesoro ciao e vabbè nulla non vi volevo dire niente di particolare visto che me l'avevate chiesta a voi mi hai appena vista la tv nella pubblicità di Max Factor sì bene sono io sono io visto che ve lo chiedete ve lo chiedete in tantissimi sì mi vedi nella pubblicità del fondotinta davvero mamma mia bene a Rimini ma ragazzi ma Rimini io Michele Sofia c'eravamo due settimane fa sì all'incirca che fine avete fatto perché non siete venuti vabbè ragazzi Alice ho scritto l'email e l'ha ricevuta quale mail oddio l'avete visto il video di oggi oh grazie tesoro grazie era un video soltanto chiacchiericcio non è che volevo fare niente di di particolare c'è una tua amica X Factor davvero ma allora ci conosciamo è sicuro c'è fare le interviste non lo posso dire wow va bene voi non avete sentito niente ok e come non ti arrivano le notifiche delle tue live ma perché vabbè comunque organizzeremo organizzeremo ah c'eri ok perfetto allora adesso in realtà il video il video che ho caricato oggi su Alice Le Codri è un video molto chiacchiericcio solo per ricominciare dopo le vacanze perché io mi ero un po' fermata così e io spero che mi seguiate nel senso perché onestamente tutti voi tutte le persone che mi seguono così a me mi stanno veramente mi è proprio speciale come cosa quindi siccome mi state facendo veramente rivenire voglio di far video così quindi spero veramente che voi ci siate e quindi nulla sono contentissima spero di vedervi ah non sai cosa c'entrano le mie lanzagne Maria allora te lo racconto velocissima poi chiudono live perché è tardi allora ti spiego Maria ascoltami per far allora è successo così una sera io con Potta e Michele Bravi stavamo andando a vedere Inside Out il film eravamo in macchina e abbiamo iniziato a parlare un attimo così d'amblè del singhiozzo e io ho detto oh ragazzi voi non avete idea io ho un metodo fantasmagorico per far passare il singhiozzo semplicemente quando avete il singhiozzo dovete pensare ve l'assicuro che è così io te lo giuro Maria funziona dovete pensare ad avere una melanzana e infelare il preservativo sulla melanzana ma veramente lo devi lo devi veramente pensare e focussare in mente bene bene quando l'avete focussata bene questa cosa quindi siete sicuri ricominciate a pensare a quello che volete e il singhiozzo non c'è più e ve lo giuro che funziona funziona e a chi non funziona è perché non lo pensa veramente è rimasta un po' di shock è normale è normale lo capisco ma funziona ve lo giuro provate Maria prova perché vedrai è un metodo rivoluzionario e salviamo il mondo con questo metodo siamo anche finiti in tendenza su twitter ma che volete di più della vita vabbè ciao tesoro ah no EG no EG e D non mi ricordo non ho letto bene ragazzi io ho letto te Breaking Bad Breaking Bad tutta la vita ragazzi va bene ragazzi io scappo e allora vi mando un grande 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 bacio e ci vediamo tutti il 3 il 3 da Alcatraz e se non avete visto il video andate a vedere il video di oggi perché vi spiego un po' di cose e basta ci vediamo poi domani insomma nelle live che facciamo se avete richieste cose varie ma twittatemi tanto io leggo tutto quindi non vi preoccupate twittatemi chiedetemi e ci sentiamo su twitter su snapchat su snapchat è carinissimo e va bene basta vi mando un bacione ciao ragazzi ciao